Per questo motivo che diamo questo premio a Gianfrancesco Lazzotti! Grazie, grazie a tutti, è un'occasione bellissima, io naturalmente devo ringraziare Deborah Young e la sua prestigiosissima giuria e naturalmente siccome i film sono relazioni complesse che si fanno insomma in gruppo, prendono forma anche stata facendo in gruppo, io ho qui un gruppo di ottobre che devo nominare assolutamente perché oltre ai premiati Cristiana Caputondi e Filippo Nigro c'è Nicoletta Romanov che fa un film che è molto più grande, c'è Gianni Cinelli, ci sono i giovani produttori Nicole Voluzzi e Massimiliano Leoni, c'è il Rai Cinema che ci ha sostenuto molto Questo film è distribuito appunto da Zero Uno, prodotto da Rosa Film e da Faccia Piatta, mi sono un po' ripassato a tutte le cose Bravo, ah elettronica questa è bella Questo? Proprio, vai ripagando Niente, quindi grazie a tutti, grazie soprattutto al Rai Cinema perché mi ha sostenuto con Caterina d'Amico, Carlo Brancalioni mi hanno sostenuto con coraggio perché non era semplice scegliere questo film, immagino che ne abbiano molti da scegliere, insomma hanno scelto questo e hanno pubblicato una scelta sicuramente non scontata e quindi li ringrazio, non so se li posso chiamare Certo, Caterina d'Amico e non ce ne sono? Caterina d'Amico non c'è ma... Ah, Carlo Brancalioni c'è, Nicoletta Romano c'è, Filippo Nigro, Cristiana, Gianni Cinelli Venite tutti sul palco con una foto di gruppo? Grazie 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 Grazie